Ciao Fabiola, ciao Barbara. Ciao. Oggi cominciamo un'ipnosi regressiva, telepatica. Barbara va in ipnosi per Fabiola. O meglio, adesso Fabiola ci spiegherà un attimo qual è il problema, qual è la situazione. Vai Fabiola. Allora, io voglio farla non per me questa volta, ma per mio figlio, che ha quasi dieci anni e da sempre ha problemi di intolleranza alimentari. Problemi di ansia, quindi è un bimbo molto ansioso, somatizza le sue ansie e le sue paure del buio, di dormire da solo, comunque le sue paure in generale con mal di pancia frequenti. Ha problemi di concentrazione, quindi anche legati allo studio, ha paura di dormire da solo. Sin da piccolo infatti ha avuto problemi nel dormire, non dormiva quasi mai e quando si addormentava si svegliava molto agitato la notte. Vorrei quindi, non so, conoscere la causa dei suoi problemi, di questi problemi. e poi lui ha anche le adenoidi e le tonsille ipertrofiche, cioè sono molto grandi. Finora abbiamo evitato in tutti i modi l'intervento, con tante strade, abbiamo seguito tante strade, per ora l'abbiamo evitato, però ha comunque ancora un po' di problemi respiratori. Ecco, diciamo, in linea generale vorrei vedere cosa c'è. Questo no, eh? Questo è tutto. Paura del buio, paura di dormire da solo, mal di pancia. Sì, mal di pancia, sì. Vabbè, e le adenoidi e le tonsille ipertrofiche, se c'è una causa è sotterita su questo. Sì, se c'è una causa è chiaro. Allora, cominciamo subito. Se non c'è altro, Barbara, mettiti pure comoda, cominciamo. Bene, adesso comincio. Tu, Fabio, la distattiva il microfono, se vuoi, così evitiamo che qualche rumore di fondo possa arrivare, possa disturbare leggermente. Io comincio a contare da 10 a 1, Barbara, e tu senti, come al solito, il tuo corpo che comincia a rilassarsi, lentamente. 10 a 1, Barbara, e tu senti che il tuo corpo comincia a rilassarsi sempre di più. Ad ogni tuo respiro. Ad ogni tuo respiro. E senti che il tuo corpo comincia ad appesantirsi. Ad ogni mia parola. senti che il tuo corpo si è presente. E senti che il tuo corpo si è presente. senti che il corpo che prendà nella mare il nostro corpo che si è volto. 9 senti i tuoi piedi sempre più piccanti 8 senti questa pesantezza fino al ginocchio caro io lo vedo già sei inipnosi come lo vedi? vedo questo bambino davanti a me in piedi in una stanza diciamo di fondo tutta buia vedo lui luminoso in primo piano e lo sfondo buio energeticamente come lo vedi? luminoso però ci sono degli accumuli di energia negativa in quale zona del suo corpo? il fianco sinistro, la spalla sinistra, lo stomaco fianco, spalla, stomaco? sì sono tre energie diverse sono tre energie diverse sì cominciamo dallo stomaco come la vedi? la paura la paura la paura vai a vedere il momento in cui è nata questa paura mi ha fatto vedere mi ha fatto vedere mi ha passato l'immagine di un lo vedo nella sua stanza nel suo letto e vedo mi dice proprio parla con me e mi dice che ha paura perché ogni volta che è nel buio c'è un uomo che riesco a vedere uno spirito è un uomo grande d'età pelato con tipo un saio una camicia da notte lunga addosso scura e cammina con una lanterna nelle mani ok chiama quest'uomo sì è qui davanti a me davanti a me cosa? come si chiama? Goffredo ok Goffredo mi fai parlare direttamente con lui? sì cambia Goffredo mi senti? sì Goffredo cosa ci fai lì nella stanza del figlio della mia amica Fabione? faccio compagnia al bimbo perché? perché lui ha paura del buio io ho la lanterna per illuminare la stanza Goffredo sai che lui ha paura proprio di te che stai lì con la lanterna la paura gliela produci tu lo sapevi? sì e allora? perché sei lì a fargli paura? perché mi piace ti piace? ti piace cosa? fargli paura e cosa te ne fai di questa paura? mi diverte da quanto tempo lo vai a trovare? siamo amici da quando? da tempo ma prima che lui nascesse tu frequentavi la casa della mia amica? aspettavo che nascesse lo aspettavi? mh mh ti sei trovato in quella casa proprio perché volevi aspettare che nascesse o già c'eri per tempo? diciamo che andavo e venivo e perché sei attratto dalla casa della mia amica? cosa c'è in questa casa? che ti andrai? sono attratto dai bimbi di qual'età? fino agli 11-12 anni e perché? perché sono ingenui di qual'età li preferisci? 5-6 anni e cosa fai loro? li tocco perché? mi piace da quanto tempo sei morto? troppo quanto è troppo? però questa condizione mi permette di fare quello che voglio quindi non vuoi più rivivere un corpo fisico? no e da quanto tempo hai lasciato l'ultimo? una sessantina d'anni adesso lasciamo un attimo con Barbara Barbara? sì adesso fatti passare le immagini della sua ultima vita le immagini più importanti che ci ricollegano a questo suo morbo per i bambini subisce violenze da padre in questo momento lui quanti anni ha? sei anni per quanto come? scusa no no dicevo che lo vedevo in casa con una casa insomma abbastanza umile col padre il padre lo accusa ne accusa sessualmente? sì fino a che età? fino a abbastanza grandicello 14 anni ok finché lui si uccide vai al giorno del suo suicidio quanti anni ha? 14 si mette una corda alla gola vai a qualche minuto prima del suo suicidio chiedigli mentalmente perché vuole finire con la sua vita perché non riesce a ribellarsi a questa situazione e non vuole che continui più ha molti sensi di colpa crede di essere il problema non di subirlo chiedigli se non ha pensato di andare semplicemente via di casa invece di uccidersi ha troppa paura lo andrebbe a riprendere la morte gli fa meno paura? sì va bene vai avanti vediamo cosa succede che dimmi in quale città si trova? o paese? in Praga in che anno? siamo intorno a 1740 1740? sì le percezioni del tempo possono essere diverse per questo ci sono queste lo verifico sempre va bene vediamo cosa succede il momento della morte? sì magari risparmi i dettagli ma giusto per capire cosa succede ok si si mette una corda al collo e fuori all'esterno c'è una sorta di boschetto quindi entra nel boschetto in modo da non essere visto si arrampica sull'albero e lega la corda bene con agilità riscende e c'è ha portato con sé tipo una sedia ci salta su mette la corda al collo e senza neanche esitare anzi con fretta mette la corda al collo e si tira giù subito così esce dalla bocca seguilo una volta uscito cosa succede? che vaga attorno a sé va dal padre lo cerca e lo lo picchia lo scuote lo agita è arrabbiatissimo è in casa in questo momento e si aprono due canali uno a destra e uno a sinistra uno a destra bianco e uno a sinistra grigio e gli fanno visita ne escono fuori delle anime dei rispettivi colori diciamo buone e cattive e lui si trova nel mezzo però è talmente arrabbiato che manda via le anime buone perché sono lì per sedarlo e per accoglierlo nonostante ci sia ci siano tra loro delle persone che lui conosce che ha conosciuto e va via con quelle nere entra nel tunnel e scompare seguilo seguilo nel tunnel se poi ti da farsidio stai lì troppo è un tunnel breve non è molto lungo è completamente scuro poco illuminato queste anime che sono nere ancora più del buio gli fanno strada e una davanti e due lo portano per le braccia insomma l'accompagnano e arrivano in un posto buio tesorato proprio Ural qualcosa di simile cosa fanno lì con lui? appena arrivano lì ci sono tante anime in quel posto insomma in questo posto che gli si avvicinano in curiosite diciamo alcune camminano come zombie altre sembrano normali alcune più luminose altre completamente nere luminose non chiare cioè si distinguono rispetto alle altre ma sono sempre scure qualcuno lavora qualcuno vegeta perché l'hanno portata in questo posto? cosa deve fare lì? perché questa è la loro base è il punto loro di arrivo da lì lui dovrà stare un po' di tempo lì per capire insomma se vuole vagare se vuole tornare vediamo gli insegnano si gli insegnano gli insegnano proprio come fare per spostarsi posti come andare da una dimensione all'altra come tornare sulla terra solo come spirito questo è interessante facciamo un attimo una pausa e con calma vediamo certi dettagli chi è il suo o chi sono i suoi insegnanti? queste anime che sono andate a raccoglierlo quante sono? sono tre sono spiriti ex umani? si ma sono morti da da decenni proprio cioè sono proprio vecchi diciamo quindi diciamo vanno il dominio un po' della situazione si cosa gli insegna? mi dicono che il bambino è appetibile perché è un'anima molto giovane quindi essendo puro e donandosi alle tenebre piuttosto che alla luce può avere poteri maggiori perché ha meno come dire meno impedimenti ma perché lui è bambino perché è morto bambino si quindi lui ha come dei vantaggi in questo caso? si quali sarebbero questi i poteri in più? ha più energia da poter diffondere più forte ha più ha capacità maggiori per poter avvicinarsi alle persone e persuaderle tra i tre che è quello che si occupa più di lui? quello che gli faceva strada come si chiama? imox imox mi fai parlare direttamente con lui? si imox mi dice di no calo non vuole parlare? no non vuole parlare con me? dice che non può avvicinarsi a me non può entrare in me ah chiaro perché? non ce la fa si brucia? si non riesce a starmi vicino neanche tanto va bene parliamo scambiamoci qualche informazione dell'epaticamento cosa sta insegnando a Goffrego? come cambiare dimensione come spostarsi all'interno di questa come toccare gli oggetti spostare gli oggetti come comparire e scomparire come sfruttare i canali come inserirsi all'interno di questi bene ci puoi insegnare a noi come se stessi insegnando a Goffredo partiamo dal punto dal primo punto come cambiare dimensione per loro è più semplice perché hanno già abbandonato il corpo quindi cambiare dimensione significa basta volerlo si tutto quello che deve fare è una questione di concentrazione e di volontà si poi secondo punto sfruttare i canali mi dice un po' più complesso inserirsi in questi per esempio si perché bisogna cambia questa situazione da soggetto a soggetto bisogna prima studiarlo capire se c'è qualcosa da sfruttare nella persona che c'è davanti a sé e aspettare il momento buono per poterci inserire il momento buono è determinato dalla persona che è oggetto di studio basta che generi frequenze negative che sia arrabbiato che chieda aiuto basta creargli una situazione sfavorevole nell'ambiente che gli generi malessere e insoddisfazione come dire depressione in maniera tale da trovare il canale aperto perché in qualche maniera la persona vuole trovare una via d'uscita e quindi inserircisi all'interno non presentandosi in maniera negativa ma prima come positiva esatto questo è importantissimo perché quando ci si arrabbia o quando si approva o quando si preoccupa si stanno generando delle frequenze di tipo negativo per cui si apre già si crea già un canale con queste frequenze quindi con questi esseri se poi ci aggiungiamo anche una richiesta di aiuto una richiesta di aiuto può essere anche quando noi per abitudine o per istinto senza neanche accordi diciamo per esempio cosa darei cosa darei per questo ecco queste queste sono richieste di aiuto sono cessioni di potere dichiarazioni di volontà bisogna stare molto attenti quando a una persona le si augura del mare o le si minaccia di chissà cosa o chissà cosa si dichiara di fare o di avere o di dare per chissà quell'obiettivo importantissimo bene scusami continuo sfruttare i canali poi si toccare gli oggetti come toccare mi fa vedere mi dimostra come una scatola sospesa in questo momento lui ci mette le mani a due lati e chiude gli occhi quindi si concentra e dalle mani esce un'energia scura in questo caso non la tocca la scatola crea come un vassoio un contenitore con questa energia nel quale racchiude l'oggetto e lo sposta normalmente si usa molto usano molto gli spiriti di spostare gli oggetti fisici lo fanno spesso si capita immagino che sia però un consumo di energia notevole decisamente si e quando quindi scelgo di farlo dipende loro personalmente spesso lo utilizzano per mettere paura quando occorrono questi spostamenti l'essere umano vivo in corpo normalmente li vede o c'è il momento in cui questo non viene visto dipende è possibile anche che li vedano e questi spostamenti quando però loro li vedono avvengono velocissimamente come quando ti sembra di vedere le cose sotto gli occhi muoversi quando accade davanti agli occhi umani accade sempre in un momento nel quale non c'è la come posso dire non accade proprio davanti agli occhi accade quando sei girato quando ti sembra di vedere qualcosa con la coda dell'occhio come dire ok cos'altro gli insegna? come cambiare dimensione? ah scusami cos'altro gli insegna? cosa? cos'altro gli insegna? allora come cambiare dimensione come spostare gli oggetti come sfruttare i canali perché insegna Goffrey? perché lui non lo sa ma lo fa semplicemente perché per amicizia? no perché chiaramente vuole che lui diventi uno dei suoi prediletti addirittura quindi Imox diciamo è un capo con delle persone alle sue dipendenze? sì infatti mi dice che solitamente non va lui a raccogliere le anime che muoiono dalla terra diciamo Imox ha intenzione di reincarnarsi? no no però se volesse potrebbe farlo? sì sì potrebbe farlo ma non se volesse reincarnarsi però se volesse reincarnarsi come dovrebbe fare? cosa farebbe? a chi si rivolgerebbe? lui non deve rivolgersi a nessuno c'è lì come per l'altra dimensione che mi fa vedere quella luminosa diciamo un canale un tunnel entro il quale entrare per potersi reincarnare lui ha la possibilità di reincarnarsi dove e come vuole però non è avvantaggio perché da umano perde consapevolezza e perde molte agevolazioni molti poteri quindi vuole rimanere in questa condizione per sempre sì mi dice la carcassa riferendosi al corpo parla del corpo come una carcassa e lui come morto nell'ultima vita terrena? l'hanno affogato lui vede anche oltre gli spiriti ex umani o umani che vogliamo dire conosce anche altri tipi di esseri diversi da lui? sì per esempio qua dice che loro da lì possono guardare in tutte le dimensioni non è detto che si frequentino ma lui può vagare in quale dimensione ha vagato? e dice che esiste una dimensione terrena una non che è quella in cui sono loro e che queste due hanno un punto di congiunzione in quella terrena ci siamo noi e ci sono anche loro compresi gli alieni mi dice tutti conosce gli alieni quindi? sì sì di quale tipo? o razze? lui conosce tutte le razze con qualcuno ci parla e collabora con qualcuno no con chi collabora? con quelli che hanno scelto la sua stessa strada e con quali esattamente il formanno? quali sono? omanoidi solo omanoidi? no mi dice con tutti però principalmente con quelli e per chi ha stretto collaborazioni con quale obiettivo? perché loro sono una branca che è sempre alla ricerca e allo studio di un punto di congiunzione tra tutti i mondi quindi per lui potrebbe essere una un canale per poter come dire ampliarsi quali alieni si occupano di ricevere le anime degli esseri umani ancora morti? se ce ne sono me ne fa vedere uno simile ad un rettile vedo la la pelle scomosa riceve gli esseri umani appena morti? sotto altra forma quale forma? forma umana e perché le riceve? e perché? li riceve li riceve perché poi li porta con sé e li utilizza mi dice però questo essere umano potrebbe riceverlo anche lui se volesse? sì quindi diciamo è come se si dividessero i compiti in un certo senso in collaborazione sì come se ognuno di noi mi dice avesse delle affinità delle cose a cui ho portato dei canali più aperti meno aperti aperti più per predisposizioni come devo dire rispetto alla predisposizione della persona che sta arrivando o che comunque sta lasciando il corpo loro si presentano sul posto e cercano di attrarli a sé bene per esempio dice facendo proposte non lo so cogliendo l'attimo e cercando di tirarli a sé poi a secondo della frequenza e dell'attitudine dell'anima che è morta viene assoggettata o divisa per settori cioè resta con lui come Goffredo o va con gli alieni o la si lascia vagare o le si dà il compito di tornare per una determinata operazione questi alieni che si presentano con forma umana riescono a prendere forma di persone che le persone per la morte hanno conosciuto assolutamente sì come possono prendere questa forma? da dove prendono la forma? da dove prendono questa informazione di forma? mi dice che l'energia può trasformare tutto sì, però le informazioni per arrivare alla forma esatta come la prendono dall'anima o dalla persona che è ancora viva vanno in contatto con la persona a cui vogliono somigliare sì e sfruttando sempre i loro canali e arrivano al DNA esattamente quindi quello che io voglio capire è se una persona non attiva una connessione con questi alieni che sia viva o che sia morta gli alieni possono prendere la propria, la sua forma? se il DNA non è attivo e il canale è chiuso, no ok questo lo sapete questa è di estrema importanza questa informazione di estrema importanza ok torniamo ai box torniamo a Goffredo una volta Goffredo aveva imparato i trucchi per poter vivere la sua però aspetta c'è qualcuno l'alieno è rimasto qua l'alieno di chi? l'alieno di cui abbiamo parlato? quello che mi ha fatto vedere sì sì che forma? che tipo di alieno è? alla pelle un rettile un rettile senti siccome ci siamo un po' stufati che ogni volta ti devono venire a disturbare adesso tu lo prendi per le mani alzi la tua frequenza finché non scappa perché brucia e i prossimi che arrivano bruceranno sempre di più sì, via basta ora devono capire che appena arrivano tu li tocchi e alzi la frequenza che per loro è insopportabile stop non c'è altro da fare continuiamo passiamo a Goffredo una volta aver imparato i principi della vita da spirito dell'oscurità chiamiamolo così tanto per dargli un nome cosa fa? dove va? cosa si preferisce? allora in realtà resta in questo posto per un bel po' c'è un da lì la possibilità di di guardare la terra cioè è un canale aperto su su tutte le dimensioni diciamo e da la possibilità di guardare anche sulla terra e e loro insegnano insomma vedere gli fanno sempre scuola prendono degli oggetti dei soggetti come esempio e quindi gli insegnano a riconoscere i canali le aperture, le chiusure e quant'altro vedo che gli fanno scuola ok adesso passiamo a Goffredo passiamo a Goffredo quando scende il figlio di Fabiola perché lo scende? lo sceglie perché è un bambino molto sensibile quindi ha molti canali aperti perché più si è sensibili più si è aperti alla conoscenza e più per loro è semplice vedere mi dice come il terzo occhio mi fa vedere quello che c'è sulla fronte come se ci fosse un altro che poi in realtà è un occhio ma si apre come un canale come un flusso di luce durante le sue interferenze con il figlio di Fabiola esattamente cosa ha fatto lui? dicevi lo toccava il bambino si sentiva toccare? si il bambino lo vede e si sente toccare ed è per questo motivo che è terrorizzato collega tu un momento con il figlio di Fabiola ci sei? si ciao ma tu hai mai detto alla mamma che ti sentivi toccare? no perché? hai detto mai alla mamma che vieni questo signore? no perché non gliel'hai detto? ma non ti sto rimproverando solo voglio capire perché perché la mamma ti può aiutare e come fa? lui mi dice che le fa del male se glielo dico lui mente lui non può fare niente non lo vedi che è senza corpo? io non lo riesco a toccare infatti è senza corpo non può fare niente non devi avere paura niente volevo solo sapere questo lasciami con barba barba chiedi a Goffredo quali problemi quali fastidi quali disturbi ha provocato al figlio di Fabiola con la sua interferenza mi dice che la che la paura paralizza quindi è capace di diffondersi e di insinuarsi in un corpo e di creare malessere diffuso si insinua ovunque e nel caso del figlio di Fabiola cosa ha procurato? dolore al petto dolore alla pancia capogiri ansia mancanza di sonno mente annebbiata è investito di paura mi dice paura del buio? si paura di stare da sonno non ha paura del buio ha paura di lui paura di dormire solo? si questo gli provoca problemi a scuola? vuole dormire con la mamma perché l'energia di Fabiola respinge respinge quest'anima va bene d'accordo passami un attimo col figlio di Fabiola un secondo ciao ciao dimmi soltanto una cosa e poi ti lascio in pace e poi ci penso io a questo signore dimmi solo se tu vuoi che lui stia ancora con te no no benissimo adesso ci penso io sei tranquillo ciao barbara mhm adesso dia goffredo che deve assolutamente staccarsi definitivamente non interferire più con il figlio di Fabiola perché lui non vuole mi dice che ha anche dei tipo degli scatti di ira dei cambi di umore repentini scusami mi ha detto questa cosa quindi lui deve andare via quindi adesso gli dici di aprire un portale dimensionale e di sparire completamente mi dice che non ci pensa proprio vabbè questo lo dice lui fallo stare lì adesso parliamo col bambino dia al bambino anzi a proposito prima di fare questa operazione dimmi cos'è quell'energia sul fianco sinistro e quell'altra sulla spalla sinistra nel bambino rabbia nel fianco senso di colpa nella spalla il stomaco ha paura no? si si vedi qualcos'altro? no benissimo allora via al bambino che prenda questa energia una a una e le butta via perché questa energia questa rabbia questo senso di colpa e questa paura sono quelle che sono da che sono le frequenze con cui si sintonizza questo goffre una volta eliminate queste infatti scusami lo prende per i polsi prende per i polsi il bimbo e gli impedisce di di togliere l'energia negativa anzi gliela passa no digli di staccarsi dal bambino si è staccato? no prendilo tu per i polsi il bambino lo prendi per i polsi gli passi tu invece le tue frequenze vediamo cosa succede no subito se ne va immediatamente adesso lo tieni tu per i polsi lui non se ne va da nessuna parte adesso rimane se ne doveva andare prima quando gliel'abbiamo chiesto con le buone adesso rimane e tu lo tieni per i polsi e deve stare lì buono qua se se ne va bisogna parlare il suo stesso linguaggio altrimenti non capisce ok adesso vi al bambino tanto fagli vedere come lui non può niente con un sistema di frequenze diverse anzi fagli vedere come questo come questo essere vuole addirittura scappare da te neanche 50 bene adesso se anche lui vuole ottenere questa condizione deve lavorare sulle frequenze può modificare o eliminare quelle che già e poi la stessa cosa digli al bambino di prendere tanto la rabbia sul fianco sinistro e di buttarla via finchè non sparisce con le sue manine energetiche lo fa con molta foca lo sta già facendo bene quando l'ha buttata via quando non la vedi più me lo dici tolta bene poi impera subito si è proprio tenace forte bello prendi adesso devi fare la stessa cosa con l'energia sulla spalla il senso di colpo fuori anche questo si l'ha fatto? si si bene e adesso per fine l'ultimo la paura nello stomaco qua ho un po' più di problemini però lo sta facendo bene la sta raggruppando e la tira via benissimo si sente meglio bene adesso dimmi a quanto sta vibrando il bambino? 40 a cosa corrisponde nel corpo emozionale questo 40? si sente contento bene e tu quanto libri parla? 50 beh di al bambino di aumentare un po' la sua frequenza lo può fare basta solo volerlo si si lo fa ma lo vedo proprio fare le pirouette lo vedo a quanto vibra adesso? a quanto sta vibrando adesso? 50 come te bene adesso ti al bambino di giocare un po' con goffredo e sopassaglielo gli passi i polsi di goffredo e gli passa il bambino vediamo cosa succede gli passa la frequenza o lo prende soltanto? intanto che lo prenda ok cosa succede? che lo tira giù e lo fa sedere a terra perché è più alto lo tira giù per i polsi e cosa dice goffredo? lo guarda minaccioso ma lui non si no mai dire al bambino adesso di aumentare la frequenza da ridire a goffredo di non tornare mai più da lui perché lui non vuole lui ha capito qual era il trucchetto adesso lo sa quindi non ha più effetto su di lui e se non se ne va di sua spontanea volontà il bambino gli passi la frequenza finchè non è costretto lui ad andare via perché non resiste a stare lì mi dice il bimbo che vuole farlo lui vuole passargli lui la frequenza e faglielo fare sta inondando si tira fuori goffredo si tira via ma lui lo tiene per i polsi si brucia dai dici per non fargli proprio male ok lo lascia e a terra a meno che goffredo non decida di cambiare di frequenza e allora assuma questa frequenza ma se non vuole mi guarda male mi dice assolutamente no sente la l'incompatibile cosa succede? e che sta goffredo e che sta goffredo strisciando lontano dal bimbo deve sparire per sempre definitivamente si è aperto un portale e immediatamente eh calo vedo altri bambini dietro di lui dietro goffredo? mh quanti sono? sette dì al figlio di Fabiola se vuole aiutare i suoi amichetti si bene dì pure accompagnano dentro questo portale e niente dì ai bambini dì a di loro di prendersi tutti quanti per male hanno fatto un giro tondo va bene cosa succede? goffredo sta schizzando proprio via in questo momento e nel cerchio del giro tondo dei bimbi c'è un fascio di luce enorme bene quando i bambini vanno via contenti finalmente stanno abbracciando quando ho finito poi di salutarsi tu e il bimbo di Fabiola tornate indietro ognuno per la sua strada ok sei tornata? si si come si sente adesso il bambino? elettrizzato contento come dire uforico ecco ecco e adesso di al bambino di andare nella sua stanza a dormire da solo senza accendere la luce per esempio dimmi cosa succede? dice adesso tanto so cosa fare va bene e adesso andiamo alla causa esoterica se c'è delle sue adenoidi e tonsille ipertrofiche sono segnali che lui ha lasciato trapelare tramite il suo corpo anche quello delle intolleranze bloccato dalla paura erano dei segnali non parlando ha trasformato questa energia e l'ha assomatizzata in alcuni malesseri bene quindi anche questo si può dire eliminato? si Fabiola dimmi altro perché qua abbiamo già esaurito tutto velocemente cioè meglio così vuol dire c'è stata una risposta molto positiva e veloce si e niente mi sembra che abbiamo visto tutto quindi io addirittura pensavo fosse qualche trauma subito magari alla nascita o legato a me invece credo che era legato con l'interferenza facciamo un attimo un controllo veloce alla casa eccetera e poi chiudiamo Barbara vedi se ci sono altre interferenze nella casa di Fabiola non ho bene approfittiamo di 10 minuti per andare a investigare un po' se vuoi vado si? si dimmi segui Goffredo dove è andato? è ritornato in quel posto il posto dove era dove c'era il suo maestro inbox? orale come? ah nell'orale è davanti a inbox? no è entrato dichi di andare davanti a inbox si bene adesso chiedi a Goffredo che inbox che è il suo maestro deve spiegare cosa è successo con i bambini con i bambini non ho capito scusami chiedi a Goffredo di farsi spiegare da inbox il suo maestro cosa è appena successo con il bambino o meglio con i bambini perché non è riuscito più a interferire perché è dovuto andare via perché ha sentito perché c'è stato un cambio di volontà è un aumento di frequenza quindi lui non ha trovato più appiglio i inbox aveva insegnato questo a Goffredo? si Goffredo lo sapeva? si lo sapeva per questo teneva ai bambini la paura nel caso fosse successo così come poi alla fine è successo loro hanno un piano B no perché i bambini o comunque le anime conservano la memoria di determinati meccanismi e soprattutto se sono bambini sono più tenaci hanno la volontà più ferrea quindi hanno perso definitivamente le loro vittime sicuramente in questo caso essendo bambini sì per gli adulti è differente chiediamo a inbox altre informazioni sul suo mondo lui quanti spiriti ha alle sue dipendenze? un'infinità mi dice come li ha reclutati? in quanto tempo? terrestre? allora quelli che vogliono vanno in questo Ural ce ne sono alcuni che lui recluta per determinati compiti ma spesso ci vanno di loro volontà in questo ambiente in questo Ural lui è in competizione con altri del suo stesso rango? no ci sono guerre in questo Ural? battagli? conflitti? tra le anime sì e tra loro? tra loro capi? anche sì lui è stato in guerra con qualcuno? lui è intoccabile perché? perché il capo? ci si spieghi come è strutturata la sua organizzazione la sua gerarchia quanti livelli di gerarchia ci sono come sono di dirsi i suoi collaboratori in quali sistemi in quali regni di potere, ruoli, compiti? allora lui è il Supremo poi ci sono c'è un'altra piccola schiera due suoi sottoposti che camminano sempre accanto a lui mi dice che camminano sempre in gruppo perché l'energia deve accrescersi quando si agisce in singoli si disperde in parte come a dire l'unione fa la forza va? sì sotto i suoi queste due persone ce n'è un'altra schiera molto più elevata che è quella che va ad accogliere le anime o comunque a testarle ad attrarle al loro mondo nel momento in cui lasciano la terra in questo momento quante anime che stanno lasciando la terra sono stanno essendo accolte dalla sua organizzazione? mi dice sono cifre astronomiche molti vengono anche solo per un breve periodo e poi di loro spontanea volontà si ravvedono quindi basta cosa? e dove vanno? per esempio riescono ad uscire da questa cappa a divincolarsi proprio perché si ravvedono quindi sviluppano sentimenti positivi quindi si apre per loro un canale di luce che li attira a te un canale di luce nel quale loro decidono perché la luce riesce a penetrare in questo oral riesce a penetrare soltanto che coloro che ci sono all'interno sono spaventati e magari oppure sanno di non volerci andare e si allontanano di tanto in tanto però ci sono delle anime che ravvedendosi o comunque passando diverso tempo lì e sentendosi iniziandosi a sentire insoddisfatte di questa situazione cioè hanno la volontà di migliorare di cambiarsi riescono ad avvicinarsi alla luce e quindi vanno via e dove vanno? vanno tutti nello stesso posto? si, il luogo di accoglienza in ospedale a cosa serve questo ospedale? a cercare di lenire i loro mali perché loro fisicamente non stanno bene nell'Ural non vengono curati invece lì vengono accolti come? da chi ha gestito questo ospedale? da chi ha gestito questo ospedale? vedo un'anima un uomo preposto a questa sono sempre spiriti umani? o ex umani? ex umani ma da tantissimo tempo cioè non si reincarneranno volendo potrebbero ma non non lo faranno più non torneranno più sulla terra andiamo a parlare con il direttore per così chiamarlo di questo ospedale di uno di questi ospedali? si, si, è qui davanti a me come lo vedi fisicamente? bueno, morfologicamente? lo vedo simile a noi e lo vedo luminosissimo lui conosce anche altre razze diverse da quelle umane? si, si per esempio? quali razze? mi dice che loro di lì sanno tutto conosce anche gli alieni mi dice se è quello che vuoi sapere e ce ne sono alcuni che collaborano anche con lui e quali sarebbero? quali razze? chi? tutte le razze soprattutto gli umanoidi ma quando si parla di umanoidi esattamente di chi si sta parlando? di una sorta di ibrido tra gli extraterrestri e gli umani quale tipo di extraterrestri? quello simile ad uno scimpanzee mi dice la forma più vicina a quella umana quale razze conosce lui? mi dice che non siamo tantissimi conosce gli umani conosce gli spiriti conosce gli alieni dice conosco tutto degli alieni chi conosce? quale razza? tutte e cinque le razze mi dice quali sono le cinque razze? li puoi indicare? si me li fa vedere in realtà si simili la psicologia più o meno capisco quali razze allora i più grandi sono in ordine anche di grandezza e di altezza quelli più grandi sono quelli simili a noi quindi gli umanoidi poi vedo questa razza con la pelle scomosa quindi i rettili poi vedo quelli pelosi poi vedo quelli con i piedi palmati e poi vedo gli insetti quelli che volano insomma per grandi linee questi sono gli alieni che interagiscono o interstituiscono con l'essere umano è così? si 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 quando si parla di umanoidi vedi anche persone molto simili all'essere umano per esempio di carnagione bianca con gli elementi del mondo umano allora li vedo come comunque con carcasse quindi come alieni però nel momento in cui mi hai fatto la domanda vedo che si possono trasformare cioè si possono fare l'uno e l'altro possono apparire come l'uno e come l'altro quando mi appare come l'altro mi appare come forma umana quando appaiono con forma umana normalmente quale forma prediligono? quale tipo di essere umano come razza fisica prediligono? bianco sulla mezza età anziano perché dà un senso di saggezza esprime saggezza però mezza età anziano che significa che età più o meno? no una sessantina d'anni più o meno si barba lunga capelli lunghi come l'uomo originario mi dice come la figura dell'uomo originario e poi la seconda figura diciamo umana che prediligono? una donna una donna di che età? giovane e perché? in età feconda mi dice perché? perché esprime il senso di maternità quindi di accoglimento perché tutti veniamo da da una mamma terzo? terzo tipo scelto? bambino bambino quarto? non c'è bambino donna donna femminità feconda e uomo anziano mhm nessun altro tipo? non vedo nessun altro tipo di uomo? no, non ne vedo altri va bene mi dice me li fa vedere come oggetto della religione cristiana cioè San Giuseppe la Madonna e il bambino ah già è vero è vero d'accordo ultime domande per questo come si chiama questo signore direttore dell'ospedale? è un nome strano quello che mi arriva celicio si celicio quando quando un essere umano muore quale canale sceglie se così possiamo dire e perché rispetto a tutte queste razze che in qualche maniera interferiscono con l'essere umano quindi suppongo che anche nel processo di trapasso interferisca prima abbiamo visto che alcuni vanno direttamente organizzazioni create da ex esseri umani quindi per così dire da spiriti esseri umani non più che appartengono sempre alla razza umana ma sono senza corpo fisico poi abbiamo anche esseri alieni quindi esseri con altri corpi con o senza corpi ma comunque con altri corpi in questo caso come vengono divisi se così possiamo dire queste persone trapassate ormai trapassate attraverso le varie interferenze delle varie razze di esseri mi dice che nel momento in cui una persona lascia il corpo terreno lo lascia con dei canali e con una frequenza che è un po' la somma che sicuramente è tendente al positivo e non al negativo per la maggioranza perché chi sa che sta morendo e che sta lasciando il corpo in genere è in una sensazione di pentimento, di buonismo quindi è sicuramente più accentuata la frequenza positiva rispetto a quella negativa, la frequenza alta quindi è molto più semplice che rispetto alla decisione che si propone sempre tra il bianco e il nero mi dice il nero per antonomasia spaventa se non ce l'hai dentro o quantomeno se non è accentuato dentro non tendi ad andarci adesso la maggior parte delle anime vanno verso la luce che si decanta tanto anche nella vita umana quindi tendenzialmente qualcosa di luminoso e positivo e quindi vanno lì ci sono poi delle anime in bilico che si lasciano convincere da questi umanoidi o dalle figure nere perché loro o si presentano come umanoidi sotto altre forme e quindi riescono ad accattivarli ad avvicinarli a sé oppure si presentano come figure nere facendo però un'operazione medicamentale su loro cioè cercando di elevare in quel momento proprio delle sensazioni negative di riscatto di rivalsa magari legate però sempre alla vita che ha condotto quell'anima quello spirito e quindi rispetto alle alle caratteristiche diciamo della persona questa rispetto alla sua volontà compiere a scelta non c'è nessuno che viene portato di forza o costretto che percentuale di persone trapassate arrivano 70% il resto il restante 30% dove va? si disperde negli altri due canali un canale qual è? un canale è quello della sperimentazione quindi va con gli umanoidi l'altro va nell'oral quando parli di umanoidi parli degli alieni in senso sociale? si quindi anche con le altre razze intendi dire? si si e quindi possiamo dire che quante percentuale va verso gli esseri extraterrestri non umani? un 3% un 3%? di questo 30, si un 3% del 30? si e una volta arrivati lì cosa succede a questi excessi romani? vengono accolti viene fatta anche lì una sorta di rigenerazione però non è spirituale come devo dire molto più materiale a livello fisico si aveva una malattia o viene ripulito come dire che si è trascinato con sé viene ripulito viene fatto diventare neutro, asettico viene ripulito dal male fisico e dal male morale viene messo in una condizione di di calma come dire ok poi cosa succede? che vengono messi a riposo sotto delle campane di vetro per molto tempo come se queste campane gli permettessero di dimenticare di allontanarsi quantomeno di annullare la sensazione fisica le sensazioni proprio come se uscissero neutri non so come spiegarmi e poi di lì vengono studiati torniamo poi vengono mandati sulla terra alcuni vengono studiati e vengono vestiti mi dice accade mi dice questo umanoide che vengono rimandati sulla terra ma deve passare molto tempo torniamo da Cicchio torniamo da? Cecilio sì Cilicio continuano Cecilio Cecilio no? sì invece quelli che arrivano da lui dove vanno poi? allora mi dice metti sempre la volontà al primo posto vengono curati perché accettano le cure e una volta che stanno bene tornano nella loro casa spirituale di lì decidono se tornare a lavorare se reincarnarsi che genere di vita condurre lì anche lì si lavora ma non per comprare la casa o per i soldi ma per acquistare i crediti i crediti giovano all'anima mi dice vengono adoperati in tantissimi settori mi dice però ha scelta sempre dell'anima, dello spirito lui come ha fatto a calcolare queste percentuali di divisione nel trapasso? mi dice che l'oro per l'oro è abbastanza semplice come se ce l'avessero insito insita questa capacità va bene ok c'è qualcosa che vuoi dire prima di chiudere? qualcosa di sua spontanea no mi fa il cenno dell'inchino del capo come per saluto c'è qualcosa che imox vuole dirci prima che non chiudiamo? no però è molto distinto anche lui eh composto come dire saluta come saluta? quali sono due saluta? tutti e due con il capo anzi vedo anche l'umanoide adesso tutte e tre con lo stesso movimento il... chinano il capo va bene loro ti conoscono? nel senso che con tutti questi viaggi in ipnosi che ti sei fatta ti conoscono? si si? ti conoscono per i viaggi in ipnosi? non solo mi dice va bene va bene sto parlando con imox eh? con imox imox sa di ogni volta che entri in ipnosi? si lo sente? come ti osserva? o non gli interessa? ci interessa? come no? va bene niente chiudiamo tutti i canali torniamo si bene adesso torniamo indietro io conto da 1 a 5 tu chiudi tutti i canali rientri nel tuo corpo nella tua mente al tempo presente da dove sto parlando calo sono uscito dal mio corpo bello non ci sono no da dove, da quale punto lo guardi il tuo corpo sul letto? sono in alto e mi vedo sul letto godi di questa di questa questa situazione per caso vedi il tuo corpo astrale collegato col tuo corpo fisico in qualche maniera? no bene come ti senti? bene raccontaci non so raccontaci qualcosa cosa vedi? cosa senti? cosa fai? cosa racconti ho aperto una sensazione di calore mi sento libera leggera leggerissima volo potresti venire per esempio qui da me nella mia stanza potresti allontanarti tanto fisicamente? sto girando per la mia casa no, 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 no no, no da me non potresti arrivare? mi fa un po' impressione, penso di sì intanto fate un giro per casa tua e dimmi cosa vedi le mie gattine che fanno? sono sul divano al loro posto e loro non ti vedono? non ti sentono? sì, infatti lui si sta avvicinando mira mira è la più grande cosa sta facendo la più grande? mi lecca cioè in questo momento sta leccando l'aria sì mi sente mi sente e l'altra gatta? mi guarda, è un po' più stranita lei ma ti hanno riconosciuto? sì sì, come no un'altra scappa quando non ti riconosci sto tornando però, sento qualcosa che mi ritira dietro non puoi farci niente per contrastarla? no cos'è che ti sta tirando indietro esattamente? adesso sono qui eh sei già rientrata? sì, che strano ho sentito Giuliana e mia zia di là che parlavano forse distrazione, non lo so sei rientrata, adesso come ti senti al colpo? male nel male come ti senti? stai bene? sì pronta per entrare? stavo meglio prima, sì adesso sì, chiudi tutti i canali ponti e pensiamo a rientro adesso io conto da uno a cinque e tu lentamente rientri nel tuo corpo nella tua mente al tempo presente da dove sto parlando? e senti che il tuo corpo si alleggerisce mentre ti reincorpori uno senti il tuo corpo alleggerirsi sempre di più e cominci a sentirlo alleggerirsi dai piedi che adesso non sono più sprofondati ma che insomma sono lì liberi di fluttuare due anche le gambe si stanno alleggerendo tutte completamente fino al bacino e adesso stanno levitando insieme i piedi e ti senti bene leggera tranquilla tre anche la schiena si alleggerisce l'addome il petto adesso il tuo gusto fluttua nella stanza insieme alle gambe ed è meraviglioso ti senti bene leggera tranquilla serena quattro anche le braccia si alleggeriscono tutte completamente fino alle mani poi si alleggerisce anche il collo, la testa, il volto adesso adesso tutto il tuo corpo è leggero lo senti fluttuare e senti questa meravigliosa sensazione di benessere che pervade tutto il tuo corpo ogni singola celpa del tuo corpo e ti senti leggera, tranquilla, serena piena di gioia di voglia di fare voglia di vivere cinque apri gli occhi ci sono come ti senti fisicamente? bene tanto bene? molto bene molto positivo d'accordo bene era la prima volta? ti faccio piastrare? però sì non l'avevi mai fatto? ma assolutamente no come ho fatto? eh bene che ma poi tra l'altro l'ipnosi dopo ipnosi stai prendendo la velocità l'ipnosi è al numero 9 sì che ieri sera abbiamo fatto un'ipnosi quindi già comunque è ancora aperta ma credo che forse mi ha stimolata non lo so se può questa è la mia sensazione il figlio di Fabiola non lo so subito sono entrata con lui in contatto e anche l'altra parte fa tanto chiaro sì sì subito proprio va bene Fabiola mi dici qualcosa? sono soddisfatta di com'è andata senz'altro ho visto infatti Barbara molto presente proprio a ma poi oggi tra l'altro riceverai le informazioni con una velocità incredibile facciamo fatica io a stare dietro bene poi ci dirai un po' come vanno le cose sì senz'altro quindi pubblichiamo il video su internet sì bene Barbara pure per te va bene tranquillamente d'accordo quindi prima di chiudere la registrazione se vuoi dire qualcosa a Viola? no no ho detto mi è piaciuta molto sono molto soddisfatta vi faccio sapere appunto se ci sono dei miglioramenti e come ma allora vuoi dire qualcosa prima di chiudere? sì volevo dire una cosa a Fabiola in particolare quando ho detto che lo spirito toccava il figlio non lo toccava in maniera invasiva ci tenevo a dire questo meno male ok penso che per una mamma è importante lo facciamo solo per spaventarlo sì quindi no io sono contentissima veramente di com'è andata bene speriamo bene no ma quando è così quando riformazione fluida e veloce e chiara le sessioni si fanno di una meraviglia abbiamo avuto più tempo di investigare che di lavorare in effetti è relativamente poco tempo chiaramente non sono tutte così bisogna stare con i tempi della persona con la scarsità della qualità dell'informazione e quindi anche soltanto un processo potrebbe prendere due ore anche un solo processo questo dipende molto è molto relativo tutto probabilmente anche mio figlio non so magari voleva risolvere questa questa faccenda quindi è stato ha collaborato tanto non lo so sì sicuramente sicuramente questo sì anche perché lei fa solo la intermediaria quindi realmente chi deve volere la terza parte realmente dipende quasi tutto dalla terza parte va bene io chiudo la registrazione grazie ciao ciao e grazie grazie